Posto di elaborare per banda un brano di Manente, del maestro Giuseppe Manente, ho aderito con grande piacere, perché già conoscevo questo musicista, la sua produzione, diciamo, enorme. Questo valse al numero di Opus 216, sentirete, è un valse molto breve, molto accattivante, snello e di facile presa, come potete notare. Io come sempre strumento per la mia banda, non per una banda generica, perché penso che, questo vale anche per tutto il repertorio e lo ripeterò sempre, penso che i vecchi organici hanno provocato delle vecchie trascrizioni, la banda si è rinnovata, gli strumenti sono cambiati e è cambiata anche la maniera di scrivere e di creare colori particolari tra le varie sezioni che non sono più quelle nemmeno di 50 anni fa. Buon ascolto.